Il momento blu all'inizio dell'ottava edizione del Tentino Book Festival, ieri abbiamo vogliato l'ingranaggi con un giovedì d'anteprima che è stato veramente un grande successo inaspettato anche come partecipazione di pubblico e vi vedo qua veramente numerosi anche come inaugurazioni nonostante sia un normalissimo venerdì lavorativo del 16.30, non è un orario andare in giro e sono veramente contento di essere qui perché questa edizione è veramente esagerata abbiamo dei nomi grandissimi, un cast molto qualificato e lungo che potete seguire in questi tre giorni e ad una ad una voglio salutare anche tutte le persone che rendono possibile questo evento istituzioni, sponsor, negozianti, ma partirei dai volontari un bel applauso ai volontari